Inizio, 2, 1, missione e ripetere! Non su Steam. Costa 6,99€ attualmente scontato, prezzo intero è 9,99€ ma credo che quello sia una piattaforma altamente focalizzata sui giochi indie dove potete anche donare di più se volete. È un gioco horror, non è ancora uscito, insomma c'è una demo se la volete provare. Graficamente è molto molto carino da quanto visto, quindi lo andiamo a provare insieme. Non lo vedremo molto perché la demo non durerà tantissimo e anche questa versione di gioco è un po' più avanzata però uscirà tra un po' e se non fosse stato per lo zio non l'avrei mai scoperto. Questo è per tre modalità di difficoltà, questo è per i giocatori che vogliono godersi l'atmosfera, la storia, senza la pressione di combattere. Mentre l'acute sordosia è la default, facciamo quella va, perché poi si combatterà, si sparerà anche, però è uno degli horror più indovinati negli ultimi periodi da quanto visto, ma avendolo visto voglio però guardarlo insieme a voi per la prima volta. Noi siamo una ragazza che è alla ricerca della sua sorella gemella e noi entriamo e faremo domande, insomma è tutto abbastanza guidato, però con quello stile horror che fa venire i brividi. Quindi cercheremo di... insomma non lo finiremo, non vedremo solo una minima parte perché ovviamente già il fatto di avervi fatto conoscere questo titolo riempie diciamo lo scopo di questo video. Perché... rapimento alieno qua forse? Queste tre luci così? Non lo so. Perché comunque era impossibile, anche per me scoprirlo, perché guardo poco itch.io perché ci sono spesso titoli che magari non vedono mai la luce, insomma. Però ecco, itch.io è il titolo, è il nome di questo programmino, è un launcher, un sito e poi il launcher potete scaricare, simile a Steam ma sul Giochi Indie, dove potete scaricare un sacco di demo, provare un sacco di giochi perché tanti sviluppatori iniziano da lì. Questo dovrebbe essere un Unreal Engine 5, infatti poi graficamente è meraviglioso, per quanto sia un Indie, per quanto abbia i suoi problemi, però guardate che grafica. C'è questa grana in mezzo che non si può togliere, credo. C'è l'RGB, la grana RGB che è una sorta di simulazione di schermo catodico, ma l'ho tolta. Sono 1080p ultra, dettaglio, 60 fotogrammi, avrà dei cali sicuramente. Però ecco, questo è quanto. La musica. Addirittura questo gioco ha una modalità per gli streamer, dove sullo schermo viene mostrata dov'è la box della webcam, per dire. Quindi è proprio studiato per creare un'atmosfera da condividere poi con altri. Qua c'è una scaletta, un po' insegnata. Beh, noi saltiamolo, dai. Lo saltiamo così iniziamo subito. Iniziamo subito e vediamo un pochino com'è ai comandi. Siamo fuori dalla finestra, eh? Sì. E questo inizio è un po' tragico, così. Dovrebbe essere un indio, eh. C'è tipo una separazione della realtà, non lo so. Non so dirvi altro, purtroppo. Se qualcuno di voi sa qualche info in più sul gioco me lo scriva qua sotto, perché non so quando uscirà, in 1.0. Non so la divisione in capitoli, so che ci sono i capitoli, 1 e 2. Ok. Qui siamo all'interno della nostra auto. E guidiamo noi. Quindi vedete che c'è la guida, c'è la possibilità di... Eh, sono qua non... Non è molto nitido in realtà, perché sta mettendo un po' fuoco. Vedete che si... Si china, che spettacolo. Sì, poi qualche scattino c'è, eh, si vede. WSD, move. Non so cosa succeda se andiamo addosso a qualcosa. Però sto guidando io. Il carburante sembra finito, quindi dovremmo andare a far benzina. Sì, poi mollo l'acceleratore e si ferma subito, quindi è molto guidata come cosa. Sto entrando... E si sposta pure l'erba. Questo lo notavo nella live che ha fatto lo zio, perché l'erba si sposta al passare dell'auto. Quindi io lo ringrazio ancora per questa scoperta e spero di farvelo conoscere anche a voi, insomma. Che non lo conoscevate già tutti, tranne me. Guidiamo. Anche i riflessi sul parabrezza, il segno sul parabrezza del tragico cristallo, che spettacolo. Le luci, le volumetriche, particelle, come si chiamano. Ricorda un po' Kona, la guida. Nel senso che anche lì, in un investigativo, ci si muoveva in macchina. Sto guidando da un'ora in riserva. Dovrebbe esserci una stazione di servizio prima del villaggio. Ok, andiamo. Il prezzo è onestissimo comunque di questo titolo. Comunque anche senza considerare lo sconto. 10 euro. E' vero, è un progetto in divenire. Chissà come diventerà. Però... Che roba, ragazzi. Scenderemo dall'auto e vedremo un po' di cose. Non sa che sta andando. Ah, sì. Benzina finita. Ah, sì. Ah, è un camper. Non lo sapevo. Questa è la nostra valigia dove trarremo tutti i nostri oggetti un po' particolari. Questa è la sua valigia. Stava sempre creando cose. Aveva sempre un progetto in corso. Questo controller, beh, è la sola cosa che ha lasciato prima di scomparire. Ok. Sì, infatti... Take. Prendiamo anche questa, che è una torcia. Cioè, che roba. F, flashlight. Illuminiamo. C'è altro che possiamo prendere? E questo è il controller. Quindi è il nostro inventario. Metteremo gli oggetti su quei rettangoli lì. Vorrei chiudere, però. Unequip. Ok, schiaccio. Perfetto. Vediamo se c'è altro che si può fare. Mi abbasso. C'è un qualcosa anche qui. Ah, questo ho preso un media. E posso vederlo. Sono tipo delle riprese. In cui si vede qualcuno. Va bene. Metto via. C'è anche il dettaglio della multipla qui con... Col cavo avvolto intorno. Le chiavi, i guanti. Spettacolo. Andiamo. Tengo un po' alla amnesia. Apro e scendiamo. Ok, un camper. Pensavo fosse un'auto. Abbiamo messo le quattro frecce. E andiamo avanti. Mi dite sempre che vado troppo veloce nelle visuali, quindi mi terrò abbastanza lento. Episodio. Episodio 1. The Hume. L'umore. L'atmosfera. Più che altro la colonna suonava un po' la Shining all'inizio. C'è una stazione di servizio qua. C'è la dietro di questa qui. E poi guardate un po' anche il riflesso nell'acqua. Della scritta. Gasoline service. È un service. E potrebbe arrivare fino a qua con l'auto. Comunque secondo me qua non ce n'è di benza. Sì, infatti non c'è più di distributore. C'è una porta. Si possono prendere in mano le cose? Non c'è. Però non vedo interazione, quindi mi sa che qui non si apre. Open. È open una volta forse. Ah, ok. Controllato da camera di sicurezza. Ok. Che non ci sono, immagino, perché è tutto devastato. Ok. 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 Cioè, la cosa che io mi domando è qui. È stata fatta una zona fotografata e ricreata o tutto creato da zero? Anche i suoni che meraviglia. Scusate, ma sposta la cassa. Così riusciamo a entrare? Ok. Hold and Rotate. Così possiamo... Oh, vi sono fatto una cosa del genere anche in My Summer a casa. È stato tutto molto più semplice. Si può saltare. Apposto la cassa. Scusate, la cassa la butto fuori. E poi si aprono i cassetti. Vedete che meraviglia. C'è questo che tiene incastrato tutto sotto e ho aperto il cassetto tirando, facendo leva con quello. E poi potremmo prendere anche altre cose. Adesso questo lo tolgo. Metto di là. Qua dentro c'è qualcosa. Ci sono delle gocce con proprietà curative. Le mettiamo qua. Ok. Ti via. Qua dentro non c'è altro. Apro anche qui. Una palla. C'è una porta lì. Uh. Cos'è questo? È un giornale. Parlano di una scomparsa... Ok. Tra l'altro non è in italiano il gioco. Ok. Ma non ci stavo proprio pensando in realtà. Dà ancora più mistero l'assenza dell'italiano. Perché siete lì che cercate di capire cosa c'è scritto e... Posso andevare queste cose, no? Ma è chiuso? È chiuso. Niente. Andiamo fuori. Vediamo se c'è un'altra porta qua, mi pare. Che cos'è? Che cos'è? Ma non si riesce. Ti dai un'occhiata in... Ah, qua c'è l'ago. Eccola lì la porta. Upp. Mamma mia che spavento. Hello? E qua inizia l'alone di mistero. Perché lì c'è qualcuno. E ci hanno buttato fuori la tanica. A quanto mi pare di aver visto, no? Busso. Hello? Noi siamo Sadi. È la... Prendi queste e vattene. Ok. Lui sa già chi siamo. Grazie, ma... Potremmo andarcene, ma... Potremmo anche fargli altre domande, no? Beh, la prendiamo. Mettiamo via. E la riempiremo di benzina per quando ci sarà l'occasione. Cosa c'è? Ok, posso scegliere. Eh... Hai visto mia sorella? Gemella? Sembra a me. Capelli rossi. Stress altezza. E condividiamo anche qualche cicatrice sulla faccia. È scomparsa due settimane fa. E tutti i segnali conducono nella foresta. L'hai vista? Hai aspettato due settimane prima di cercare tua sorella? E i gruppi di ricerca hanno chiamato la polizia ieri. Volevo venire prima, ma non me l'hanno permesso. Non lasciano nessuno, perché è a causa dell'avvelenamento nel... Non ho visto e sentito niente di tua sorella. Strano e cose... Cose strane e inusuali succedono qui tutto il tempo. Molte persone mancano... Scompaiono qui. Molte di loro non... Se ne sente più nulla. Cose inusuali? Che cosa significa? Questo era un posto felice una volta. Fino... Guardalo adesso. No, non pensarci. Vattene per favore. Come ho detto... Non è il loro umore... Non sono del solito umore stanotte. Sono loro, credo. Le torri. Stanno... Mormorando. Non le senti? Qualcosa sta per accadere. Io non sento niente. Presto accadrà. Più tempo trascorri qui e più le sentirai. Sbrigati. Gli parlo ancora. Cosa? Sto cercando una chiesa. Ho detto vattene. Sto cercando una chiesa. Voglio andare... Ok. Perché abbiamo un indizio della chiesa, credo. Mi sono perso qualcosa, ma l'ho fatto in fretta, insomma. Vai a destra dopo la chiesa. Ok, ok, ok. Va bene. C'è un'altra cosa di benzina. E che è vuota, tra l'altro. Contratore. Delle gomme. Di là c'è qualcosa. Credo sia l'obiettivo che dobbiamo aggiungere. Quindi torniamo indietro. Meraviglioso. Meraviglioso. Non c'è altro da dire. Gioco meriterebbe molto più visibilità. Senza un pari dubbi. Ma che poi la benzina, da dove la prendiamo? Mi ha anche aperto la porta, magari? No? Qui. Mi abbasso. Mi abbasso. E qua ci sono un po' di cose fluttuanti. Ma ci sta, per carità. E qua possiamo mettere qualcosa. Ah, da qua posso riempire la tanica. Ok, l'ho messa lì. E premo il pulsante. Funziona. Devo magari premere questo? E qua sembra mancare una manovella o qualcosa. O no? E anche qui. Fastidioso. No, non riesco a girarla, mannaggia. Devo farla girare di là. Vedo se riesco o... Devo andare di là e poi di qua. Mannaggia, non riesco. Ok. E questa pure. Ah, devo. Ci fa giocare con... Con la fisica qua. Eh, non riesco. Non riesco. Ci riproviamo. Ok, sì, bisogna seguire praticamente il... Eh, ma non ho niente da mettere su, ragazzi. Non capisco neanche cosa devo mettere. Beh, proviamo a premere, magari... Funziona. No, non funziona. No. Vabbè, cercherò di capire come andare avanti. Soprattutto guardandomi intorno qui. Mamma mia, ragazzi, che spavento. Un'altra cosa di cura. E diventerà molto, molto più pesante andando avanti, eh. Soprattutto perché... Vi lascio con quest'ultima scena qui che vi fa pensare a... Questi cavalletti con queste telecamere che puntano in alto. Faccio pensare che può succedere veramente qualsiasi cosa. Ragazzi, questo era Core Dosis. Grandissima scoperta grazie ancora a Zio Aria che me l'ha fatto conoscere. L'ha portato in live, in pratica. L'ho visto da lui. C'è stata la possibilità poi con lo sviluppatore che ha manifestato anche abbastanza entusiasmo a vedere il canale Indie Gameplay It che non conosceva. Mi ha detto, fai un buon lavoro, mi raccomando, ecco il gioco. E spero di avervelo fatto conoscere anche voi. Alla prossima, ragazzi. Fatemi sapere sotto tutti. Scrivete tutti che cosa ne pensate. E alla prossima. E ciao, ciao.